In occasione della giornata mondiale del lavoro dignitoso la consulta europea ha promosso un incontro sul tema la blue economy e il valore della disabilità, esperienze a confronto nel castello del Valentino di Torino. Durante il dibattito sono stati presentati case history del percorso di inclusione lavorativa di disabili autistici in aziende private. Un momento importantissimo, portiamo a conoscenza l'esperienza di L'Oreal nello stabilimento di Settimo che da tempo si occupa dell'inserimento di ragazzi autistici. Crediamo che in una giornata importante come questa legata alla disabilità ci possa essere un punto di partenza per un grande progetto. Speriamo che questo percorso virtuoso venga replicato. Sicuramente un plauso va proprio a L'Oreal per l'impegno a camminare insieme a noi attraverso un percorso di parità con la blue economy.